Ciao a tutti ragazzi, sono Slenderman Italia e oggi siamo in un nuovo video, questo è un video tutorial che tratta sempre della serie come scaricare, come mettere le texture e oggi siamo come mettere le texture di minecraft senza usare i block launcher, prima dovete installare questa app, questa qui, si chiama texture pack for minecraft per, l'aprite e vi uscirà questa schermata, all'inizio vi uscirà help, che qui vedete stanno le 16 per, 32 per e 64 per, 16 per è la velocità normale per creare il mondo, 32 per è lento e 64 per veramente lento, però non vi preoccupate, sempre caricherà a quel modo, poi noi scarichiamo una che io, questa qua ho già scaricato, voi cliccate qui, per vedere il tasto si è fatto bianco, poi qui sotto vi uscirà una scritta, con scritto, oltre che vi uscirà tutto il tempo di download, aspettate ragazzi vi faccio vedere tramite un'altra texture, ecco con la docu craft, ah non ho internet acceso, bella cosa, aspettate ragazzi fatemi abbassare la voce, ecco qui, fatemi rientrare così, ecco una volta che vedete voi scaricate così, riuscirà a boh, un po' di pubblicità, e vedete che, man mano, lui ve la scarica, che dopo scaricata, ve la dovrà, come dire, estrarre, nella cartella del texture di minecraft, che voi aspettate sempre un po', dopo che si è scaricato, vedete finisce, open minecraft, voi potete aprirlo da qua, ma io faccio sempre così, chiudo qui, vado in minecraft o pocket edition, perché ragazzi poi ve la sposta nelle texture, aspettate che siano qui, ed eccoci qui ragazzi, che andate in opzioni, gestisci, ecco qui, c'è la docu craft, che serve la texture, una volta che ve l'ha applicata, e se non c'è, riprovatela a riscaricare, andate in un mondo, dopo entrati nel mondo, vedete, non sono state fatte tutte bene, però, vedete, è la texture, ragazzi, penso che questo video, di come mettere le texture senza usare block launcher, o mhp master, senza launcher, spero che vi piaccia, se volete che continui la serie, arriviamo, non lo so, a 5 mi piace, arrivati a 5 mi piace, però il prossimo video, e consigliatemi su che cosa, che per esempio sta a pagamento sul play store, e voi vorreste scaricare gratis, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao raga!